Non solo una mostra, ma un vero e proprio evento spettacolo che sta girando tutta la regione Marche. E' quanto arrivato a Fano, dedicato alla figura di San Francesco. Si tratta di un morality play, ossia uno spettacolo nella forma che andava in uso nel medioevo, in cui cioè il pubblico assisteva ad uno spettacolo di tema religioso che aveva una morale. Nel nostro caso il titolo appunto è Siamo tutti mendicanti e è la vita di San Francesco di Assisi. Viene raccontato attraverso varie letture da parte dei Fioretti e delle fonti francescane e della Divina Commedia. Questo spettacolo verrà replicato a Gradara il 15 ottobre e il 9 dicembre ad Ancona al Museo del Giocattolo. Lo spettacolo viene emesso in scena dal gruppo Scnexodia che ha sede nazionale a Pesaro. Questo gruppo è composto da attori di varie ragioni. Abbiamo lavorato con il gruppo locale, marchigiano, sulla figura di San Francesco, che era uno spettacolo che avevo già rappresentato sette anni fa a Roma in passato. Mi è interessato molto perché la figura del Santo è sempre vista nella visione di Zeffirelli, di Forza Venite Gente, come un giullare, una figura sopra le righe, portata avanti con questo tono molto spensierato. Mentre in realtà dalle fonti storiche che appunto prendiamo in mano, apriamo i libri, vediamo chi è San Francesco, ne emerge una figura che già in partenza aveva fatto il suo percorso e quindi è su quello che mettiamo il nostro focus. Devo dire appunto che con i suoi ritratti Gergi poi ha tirato fuori questa espressività, questo vigore, questo dinamismo della figura che è ben lontana dalla visione storitipata che sia del Santo. Ho aspettato con molto piacere l'invito di un amico regista Luca per questa collaborazione. Il titolo tridimensionale che Luca le ha dato al teatro ha fatto che sarà più facile la sua interpretazione sulla figura di San Francesco. Siccome l'arte e la cultura hanno effetto spirituale, anche la vita di San Francesco che lui lo paragona con la vita di Madre Teresa ha direttamente l'effetto spirituale. Luca ha anche allestito la mostra e ha una grande possibilità di vedere bene l'arte. Oggi questa bella mostra di Giorgi Cola che si inaugura questa sera è a carattere religioso perché appunto oggi è anche una festa molto importante, la festa di San Francesco. Questi disegni di Giorgi Cola sono veramente molto, diciamo, catturano molto l'attenzione perché colgono bene, diciamo, anche il livello del volto, diciamo, le espressioni del volto, quindi come per esempio Madre Teresa di Calcutta, le espressioni del volto sono molto ben fatte e quindi, diciamo, nei ritratti secondo me è un bravissimo pittore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.